Allora, subtopic e passaggio ranking, cosa sono, quando sono stati attivati, a che punto siamo, perché è passato tanto tempo e sono uscite tante informazioni e mi sono chiarito più che altro quelle che sono i significati. Allora, partiamo dai subtopic, perché intervengono in due fasi diverse. Subtopic nella fase della comprensione di quello che ha digitato l'utente, mentre il passaggio ranking è in fase di classificazione. Dopodiché entriamo in live, per chi c'è, facciamo Q&A su questo argomento, su tante altre cose della sede, sul site clinic. Cioè vi analizzo i siti, però. Allora, subtopic. Quando si dice che una pagina è indicizzata, cioè che cosa significa, che cos'è Google, come funziona il sistema di Google di indicizzazione? Google è come se fosse una grande biblioteca e in questa grande biblioteca avesse uno scaffale per ogni parola. Facciamo questa semplificazione. Quindi voi scrivete una pagina, tutte le parole che sono contenute in questa pagina, vengono aperti gli scaffali della parola, delle parole contenute, e la vostra pagina finisce in tutte queste parole. Così quando le persone digitano cane su Google, Google apre solo lo scaffale cane, e quindi riesce a fare una ricerca molto più precisa, senza perdere troppo tempo, e risparmia un sacco. Ora, per fare un esempio, quando voi cercate come cambiare la luminosità del laptop, Google fa una cosa in più, cerca di comprendere quello che avete scritto, e quindi la parola cambiare, il verbo, può significare regolare, come regolare la luminosità del laptop. Quindi, oltre a tutti gli scaffali che apre su come cambiare la luminosità del laptop, apre anche lo scaffale di regolare, perché significa quello. Quindi, da un punto di vista SEO, so che hanno venduto un sacco di fuffa e roba varia, ma non è che dovete, diciamo, declinare la chiave in tutti i sinonimi e contrari possibili, immaginiamo una minchiata questa. Perché Google in realtà apre già gli scaffali relativi a quello che state dicendo, quindi non avete questa necessità da un punto di vista proprio di indicizzazione, siete comunque poi pertinenti se la chiave l'avete, quindi se la chiave è cambiare o regolare, voi non cambia niente, usatela una, vi basta e avanza. I subtopic intervengono proprio in questo caso, vanno a far aprire un altro scaffale. Quindi, che significa? Che se voi cercate esercizi, non lo so, l'esempio classico che fa Google è attrezzatura per allenarsi in casa, lui apre tutti gli scaffali di attrezzatura per allenarsi in casa. Poi a un certo punto dice, ah, ma questa chiave spendiamo ancora il significato, è molto interessante anche l'argomento, idee di allenamenti in piccoli spazi. E quindi apre lo scaffale, un altro scaffale, quindi non c'entra niente il contenuto che voi avete scritto, come prima, no? Cambiare o regolare, non c'entra proprio niente quello che voi avete scritto. I subtopic, che sono attivi da novembre 2020, si riferiscono esclusivamente alla comprensione della query, quindi allargano le possibilità e nei dieci risultati di ricerca, magari su dieci, uno è relativo al subtopic. Cosa deve fare un SEO o una SEO per cercare di fare una buona attività? Quella di, come la, Marichiana Marcella l'ha chiamata, l'esaustività di una risorsa, che significa, non c'entra niente nella lunghezza, ma di avere un contenuto, o più contenuto, una pagina o più pagine, una sezione, che sia abbastanza esaustiva. Quindi, chi fa questo lavoro da sempre, non ha niente da fare, perché lo sa come funzionano le cose. Espande i suoi contenuti, perché è normale, se tu vuoi diventare molto autorevole in un settore, devi diventare il punto di riferimento in quel settore attraverso i contenuti. Punto finito a capo. Quindi, è importante per la SEO questo concetto, quello di andare a diventare un punto di riferimento nella tua nicchia attraverso i contenuti. E, se hai fatto un buon lavoro di content marketing, ovviamente tutti gli argomenti li hai trattati, ma non devi fare niente per i subtopic, davvero, lavorano in fase di comprensione della query. Queste purtroppo sono le cavolate che nascono in giro, che ci fanno credere ai miracoli, di tante altre cose. Passage ranking, invece, che all'inizio era come passage indexing, io mi sono sbagliato varie volte, perché le prime dichiarazioni erano forvianti di Google, era citato male, non è passage indexing, ma passage ranking. Martin Split, lo ha spiegato in un'intervista, ma possiamo riassumerla così, non è nella fase di indicizzazione, riguarda proprio le nostre pagine, riguarda la classificazione, quindi riguarda probabilmente, di più la parte della pertinenza. Quindi se un sito ha la pagina dedicata agli ortaggi, e ha un piccolo passaggio sul pomodoro specifico, diciamo che Google ritiene quella pagina pertinente, quindi migliora la sua pertinenza, anche per quel pomodoro specifico, e non solo per l'argomento generico, che sono gli ortaggi. Ma attenzione, perché se avete una strutturazione della pagina fatta bene, non c'è niente che dobbiate fare. Infatti il passage ranking, è un aumento della comprensione di quello che c'è in una pagina, per le pagine strutturate male, per le pagine che sono messe male. Quindi non è che chissà che cosa dovete fare, non è che dovete aumentare i contenuti, perché i contenuti, se avete fatto un buon lavoro, li avete già aumentati, sono già esaustivi. Non c'è bisogno di fare chissà che cosa. È dedicato alle pagine, che hanno una struttura veramente fatta male. Quindi Google sta migliorando, la comprensione delle pagine, anche da questo punto di vista. Secondo me una delle tecniche più interessanti che i SEO e le SEO possono andare a utilizzare è la table of content, secondo me molto bella, perché suddivide l'argomento in punti. E questo facilita la comprensione, non solo dei motori di ricerca, ma anche delle persone, vedenti e non vedenti, che riescono attraverso i sistemi con i quali soffuriscono dei contenuti, a capire a colpo d'occhio di che cosa sta parlando la pagina. Quindi credo che sia molto importante, è ovvio, non fare una table of content su 400 parole, diciamo così. Però ecco che, spero che sia abbastanza chiaro anche che gli articoli di pochi contenuti siano veramente inutili. Tra l'altro Google ha dichiarato, John Mueller ha dichiarato che il numero di parole non c'entra niente con la qualità, vabbè, cose che ormai noi sappiamo, ma che i fuffaroli e le fuffarole della SEO non smetteranno mai di dire, perché appunto questo è un argomento, la SEO è una disciplina complessa, che ci vogliono almeno quei due o tre anni per riuscire a capirci qualcosa. Bene, con questo abbiamo concluso questo argomento, volevo fare proprio questo video per diffonderlo poi in tutti i posti dove ho già diffuso queste informazioni e correggere piccole imprecisioni che avevo detto. Diciamo che con questa metafora concettuale un po' degli scaffali della biblioteca penso di aver chiarito bene il subtopic e comunque il passaggio e il ranking non è poi una cosa così impattante riguarda i siti che sono fatti male, quindi volevo chiarire queste cose che credo siano importanti. Per chi sta guardando questo video ci vediamo in live, a breve farò un redirect, mi potete fare tutte le domande che volete, avete ancora qualche secondo per mettere qualche mi piace, poi magari tornare qui dopo che finiamo la live anche a mettere un commento, a farmi delle domande tramite il testo perché ovviamente una premiere rimane sempre una premiere, ovvero con meno interazione e quindi è importante poi diffondere questi contenuti dal mio punto di vista. Ci vediamo in live.